Pietro Taricone, la figlia Sofie, identica a lui. Pietro Taricone è rimasto nel cuore del pubblico, nonostante siano passati tanti anni dalla sua scomparsa. Taricone fu un volto molto amato del grande fratello, ed intraprese anche una storia d'amore, con Cristina Plevani, che condivise con lui l'esperienza nel reality show. Pietro ha poi perso la vita, ma ora stanno circolando le foto della figlia Sofie, ormai diciottenne, che sembra essere davvero molto somigliante al padre. Pietro Taricone fu un volto particolarmente amato del grande fratello. All'epoca si trattava ancora della prima edizione, e i protagonisti del reality show regalarono al debutto del grande fratello, un enorme successo. I telespettatori raccolti davanti allo schermo erano milioni e, in questo modo, iniziò una sorta di nuova era, che cambiò per sempre la televisione italiana. Nel reality show Pietro Taricone ebbe anche una relazione con Cristina Plevani, un altro volto amatissimo di quell'edizione. I due rimasero uniti per un periodo di tempo, ma alla fine la loro storia d'amore non ebbe futuro. Successivamente, però, Taricone ebbe una relazione con Kasia Smutniak da cui nacque sua figlia Sofie, ora diciottenne. Proprio quest'ultima è stata fotografata insieme alla madre, dal settimanale Diva e Donna. Già qualche anno fa Sofie era apparsa al Festival del Cinema di Venezia, ed era stata paparazzata. Già all'epoca tutti notarono la sua grande somiglianza con il padre, ma Sofie non apparve più pubblicamente, e di conseguenza non si è parlato dell'argomento. La ragazza è sempre apparsa molto riservata, e non ama comparire in eventi pubblici, e neppure in televisione. È evidente che il suo scopo non sia quello di raggiungere il successo, nel mondo dello spettacolo. Ora, però, Sofie è comparsa proprio su Diva e Donna con una serie di scatti insieme a Cassia Smutniak. A quel punto si sono scatenati tantissimi commenti sui social e non solo, perché in molti hanno notato una straordinaria somiglianza tra Sofie e suo padre. Dalle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, infatti, in molti hanno commentato la grande somiglianza di padre e figlia. I due hanno lo stesso colore di occhi e di capelli, hanno lo stesso sguardo e lo stesso sorriso. Questa cosa ha emozionato molto i fan di Taricone, che ha perso la vita in un incidente con il paracadute, ormai 12 anni fa. Per quanto riguarda i dettagli su Sofie e su ciò che fa la ragazza, si sa davvero molto poco. Come detto, infatti, è estremamente riservata e non ama apparire, ne ha mai rilasciato nessuna intervista di nessun tipo ai giornali. Da ciò che si è dedotto per via di quanto scritto su Diva e Donna, Sofie Taricone è una grandissima appassionata di viaggi, che rappresentano la sua grande passione. Sofie ha anche un legame particolarmente stretto, con sua mamma Cassia, con la quale solo occasionalmente capita, che ci siano dei contrasti. Inoltre la ragazza ha anche un rapporto molto stretto con il suo fratellino Leone, che è figlio della Smutniac con il suo compagno Domenico Procacci. I social network di Sofie sono blindati e di conseguenza non è possibile accedere ad altre informazioni su di lei in questo modo. È evidente l'intenzione della Taricone di stare lontana dai riflettori e non apparire in modo pubblico. Al momento non si sa niente di lei né sul percorso di studi che ha scelto, né su ciò che vorrà fare in futuro, ma è probabile che questo comunque possa emergere. Dato che Sofie appartiene ad una famiglia di personaggi pubblici. Voi che cosa ne pensate? Avete visto le foto di Sofie Taricone e notate la somiglianza, che c'è con il padre oppure non siete d'accordo? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Ciao. 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 Grazie a tutti.